Campione d'Italia, campione d'Italia, per venti volte, l'Inter è campione d'Italia! Era un gruppo di gente che voleva rivincere. Facchetti, Mazzola, Corso e Burnig fecero la famosa classifica e alla fine siamo riusciti a vincere il campionato battendo il Milan in generale di retorno. Crederci che potevamo vincerlo, riuscimmo a vincerci assieme e dire no, adesso dobbiamo vincerlo, dobbiamo farcela, bellissimo! Penso che non sia mai successo nella storia del calcio che una squadra rimane in testa dalla prima giornata da sola fino all'ultima. Siamo partiti bene, abbiamo visto che tutte le altre erano dietro e abbiamo cercato fino alla fine di tenerla indietro. Un gruppo giovane composto da soli italiani e veramente abbiamo capito subito che ce l'ha un grande feeling. Questa volontà, questo spirito combattivo l'abbiamo portato fino alla fine. La vittoria dello Scudetto dei record è stata una cavalcata impressionante. Siamo partiti fortissimo e non ci siamo girati più indietro, ecco, quindi quella veramente è un grande gruppo, una grande squadra, è un'annata incredibile. E' qui la festa, Giovanotti! 52 punti in 30 partite! E' la mitica e grandissima Inter questa! Per me questo Scudetto uguale importante tre Scudetti con Bayern in Germania! Sono consapevoli che è una cosa che viene meritata perché è il premio allo sforzo, alla onestà, alla realtà di questa società da tanti anni. e da noi stessi che abbiamo sempre cercato di lavorare con serietà e guadagnare i punti sui campi. Ci vogliamo questo Scudetto e sicuramente sarà un stimolo in più per il prossimo anno. Penso che anche questo Scudetto che lui lo ha saputo vincere, adesso è anche suo. Siamo felicissimi perché abbiamo raggiunto un traguardo importante. Veritatissimo, complimenti a tutti i compagni, tutti i club e tutti i tifosi. Abbiamo vinto dei trofei, però credo che questo ha un valore particolare, ha un sapore particolare. E se ne va! La Caponista se ne va! La Caponista se ne va! È stato molto pesante, sono contento per quello e soprattutto sono contento per tutto il gruppo. Troppo felice, troppo felice perché lo meritavamo. Alla fine più bello di così non potevo essere. Tutta la squadra, tutti quelli che erano in fuori, infortunati, avevamo la stessa idea. Quella di vincere con la testa fredda e cuore caldo. Siamo noi! Siamo noi! Il campione dell'Italia siamo noi! Ha vinto l'Inter perché è stata la squadra più forte tutta la stagione. Tanta emozione, credo che non è facile vincere il quarto titolo di seguito e credo che questa società, i nostri tifosi, noi stessi lo meritiamo per quello che stiamo dimostrando. Abbiamo vinto di nuovo Scudetto perché non è stato mai facile. Siamo impegnati e alla fine abbiamo preso tutti i frutti di un lavoro fatto eccezionale. Scudetto 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 È stato veramente un campionato molto equilibrato fino alla fine, come due anni fa, si è deciso nella ultima giornata. La FIDC doveva preparare le due coppie, una che andava a Verona e un'altra che andava a Siena. E ho detto, questi qua devono portare la vera qua, perché la vinciamo noi la vera. La forza nostra è stata sempre, tutto l'anno così, lottare insieme, chiunque veniva chiamato in causa l'ha fatto bene, ci ha aiutato tantissimo e credo che è un premio a tutti, un premio per tutti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo creato una cosa veramente importante e siamo contenti di quello che siamo riusciti a apprendere, che questo scudetto era importantissimo per noi e l'abbiamo fatto e siamo molto felici. È il completamento di un percorso, di un lavoro fatto di sacrifici che è durato tutto quest'anno. Per me oggi è una grandissima gioia e felicità, è un'emozione che non posso descriverla con le parole. Sono un uomo veramente felice oggi e sono felice anche per il mondo inter. Sempre quando si vince qualcosa di speciale, farlo come l'abbiamo fatto noi quest'anno penso sia qualcosa di incredibile. siamo partiti fin da subito forte e abbiamo dimostrato quello che volevamo. Sono molto contento, faccio complimenti ai compagni, allo staff, al mister perché abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Vincere lo scudetto in un derby è indimenticabile e abbiamo fatto la storia. Sono contento perché ho il numero 20 e adesso abbiamo il ventesimo scudetto. È bellissimo. Un percorso splendido e sono felice di condividlo con i ragazzi, con la società e con questi tifosi. Dobbiamo solamente ringraziarli per questo anno fantastico che ci hanno fatto vivere sugli spalti. Siamo stati sette ore sul pullman, gente ovunque, la passione dei tifosi, è un'emozione incredibile. C'è una grande voglia di festeggiare, di goderci questo momento incredibile perché abbiamo coronato il sogno della seconda stella. La squadra più bella di tutte al mondo, ai colori nero e azzurri, è la nostra Inter che per la ventesima volta diventa campione d'Italia! Grazie a tutti!